Massimo penso 8 e mezza Sì, va bene, ma tanto per me non doveva preparazione Quindi non ci sia Ma mica gli ha detto che il 22 c'è lo spettacolo? C'erete il 22 c'è lo spettacolo? Il 22 giornale? Che c'è il 22 giornale? Il 22 è il spettacolo dei Tarli allo Cinema Teatro San Demetrio Via d'Almazia Italia Cinema Teatro San Demetrio Mi raccomando, quanti? 26 biglietti E guardi, non so Può darsi che non ce ne siano più Eh, lo so, lo so Vabbè, qualcuno lo buttiamo a cuore, io non so Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Il 22 giornale Ma a me si vedebbero 500 biglietti No, direi 400 posti 450 posti 451 biglietti Eh, vabbè Comunque, se non trovate posti Vabbè, venite Perché poi, se invece E non lo facciamo più Voi facete, rimanete fuori Ma facete a fila Io quel giorno c'ero Io c'ero Io c'ero Io c'ero Ma c'è il solito ridotto per gli over 60 E c'ero, c'ero Ormai tutti gli amici nostri sono over 60 Ma per i bambini, i bambini sotto gli occhi Anche per i bambini 25 minuti e un intervallo di 154 minuti No Tempio, prezzi onesti Prezzi onesti Patatine eccellente Sì, secondo me 2 gennaio secondo me Mi scio 21 Eh, no Perché se non lo vanno chiamato Volevano 26 biglietti Patatine, sai? Patatine, patatine No, vanno chiamato Volevano 26 biglietti Ma le patatine poi vanno Trunc, 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 Trunc Ma lo spettacolo ha già un nome No, lo spettacolo è futuro Futuro Cioè noi poi Lo vince con la F Di solito se lo spettacolo vince Se lo spettacolo vince Siamo con la P Ma lo chiamiamo futuro 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 Sarà un figlio di... Ritorno al futuro Ritorno al futuro Ah sì, ritorno al futuro No, no Potrebbe essere P c'è dietro l'angolo Eppure Pure fai schifo Sì Sì